ciao a tutti ragazzi e ragazzeri eccoci tornati in questo nuovo video siamo tornati con pandora dopo un pochettino di tempo che non portavamo video e beh ne abbiamo approfittato grazie alla promozione sicuramente conviene comprare pandora quando ci sono le promozioni anche perché appunto si ricevono quasi in omaggio e appunto quando le cose sono gratis bisogna approfittarne ecco qua il bottino allora per bottino possiamo intendere tante tante cose abbiamo il nuovo catalogo qui c'è l'omaggio poi andiamo a vedere cosa se volete vedere il video del catalogo lo fatecelo sapere sotto nei commenti noi aspettiamo un momento a farlo anche se la collezione nuova mi hanno messo dentro questo questa cosina di carta che a me sinceramente non piace però avevano finito le box quelle lì insomma classiche quindi mi è stato messo tutto qui praticamente adesso vi faccio vedere cosa ho preso stranamente alla differenza di molte altre volte abbiamo preso questi orecchimi acquaricino formato piccolo diciamo questi sono della nuova collezione ci sono anche quelli più grandi però appunto hanno fatto questi piccolini vediamo come si aprono bene devo capire come si fa ecco qua ok ce l'ho fatta praticamente ragazzi è così ecco qua si aprono così appunto si inseriscono poi nell'orecchio e poi si richiudono in questo modo qua praticamente hanno la parte sotto che funge ad apertura esatto poi ok questo è il mio primo pezzo pandora mi vero l'orecchino unicorno vedete gli orecchini questi qui sono mono ragazzi poi per ultimi abbiamo preso quelli in oro rosa che molestamente fanno più fatica a vedersi anche se non so si vede una bella differenza si vede che vuol dire fanno fatica a vedere dal video si forse fa più fatica a vedere ma no si vede la differenza c'è una leggera differenza questi sono in oro rosa questo in argento le ho presi così perché io ho preso tre buchi da un lato e tre dall'altro metterò appunto uno in un orecchio uno nell'altro uno nell'altro uno nell'altro uno nell'altro insomma non so se mi sono fatta capire arrivando alla soglia del prezzo appunto ci danno in omaggio vi danno in omaggio il portagioie piccolino che sinceramente me lo aspettavo un po' più grande del ventennale di pandora questo qua in realtà questo portagioie è stato fatto per tutti i charm del ventennale che appunto escono ogni 20 del mese io sinceramente non ne ho mai preso uno ma perché non mi piacciono cioè fino adesso quelli che hanno fatto uscire non mi piacciono quindi ho preferito non prenderli comunque noi volendo possiamo anche utilizzarli con le altre cosine che abbiamo qui c'è la scritta pandora qua c'è scritto appunto 20 con la coroncina e adesso vi faccio vedere come è fatto allora questo è il mini portagioie fatto tipo in pelle rosa con scritto appunto 20 qua e pandora qui sotto sopra 20 come avete potuto leggermente tra vedere se c'è anche la corona esatto appunto il simbolo di pandora e poi sotto appunto c'è scritto mad in china ma dai pegancing mad in china andiamo a vedere all'interno com'è vabbè cosa che non è fabbricato in cina quindi allora all'interno è fatto così questo qui è il coperchio in tipo vellutino qui vabbè c'è questo per non fargli fare la muffa e l'interno è fatto in questo modo sempre con il vellutino qui abbiamo tutti i vari scompartimenti che sono 3,4,5,6,7,8,9,10,13 se contatto giusto quindi potete mettere charms anche anelli credo perché no non c'entra non è stato fatto apposta per i charms ma solo per i charms e qua appunto per inserirci il bracciale o i bracciali se ne avete più di uno diciamo che questo è un porta gioie anche secondo me da viaggio tipo quelli che sono stati fatti in precedenza ragazzi è carino io vi dico me lo aspettavo un po' più grande mi dico la verità però comunque se nel caso uno dovesse fare un viaggio e si vuole portare dietro il suo bracciale preferito può benissimo mettere qua e qua metterci i charm tranquillamente io penso che qua ci metterò dei charm che magari mi avanzano fuori e qua il bracciale che utilizzerò di più poi vedrò si ha circa una ragazza tipo 12x12 una cosa del genere all'incirca si è piccolino non è gigantesco però comunque me lo aspettavo un po' più grande però vabbè beh comunque con tenere 13 charm più anelli direi che non gli anelli charm più bracciale che poi uno può fare come se pare cioè alla fine qua con metti gli anelli ci potete mettere comunque lo sapete che io ho il vizio di dire anelli anziché charm non capisco mai il perché comunque questa è la box ed è secondo me bellina cioè mi aspettavo di più però non si può neanche dire niente diciamo così quindi mi raccomando oltre a dirci se volete vedere il catalogo ci fate anche sapere se la box vi piace oppure meno e noi con questo punto vi salutiamo mi raccomando di interagire con noi tramite i commenti e noi come sempre i commenti è un bel po' che non ne riceviamo granché nel senso a parte uno o due ragazzi non ci avete fatto sapere ancora se vi piace la qualità dei video dato che comunque ho cambiato telefono quindi vorremmo sapere sotto nei commenti se la qualità è cambiata il volume l'audio visto che comunque vi lamentavate dell'audio quindi se ce lo fate sapere grazie ok ragazzi detto ciò like a questo video se vi è piaciuto e come sempre ci vediamo al prossimo ciao ciao